Definite stamattina le modalità con le quali da lunedì prossimo continueranno a frequentare la scuola e 15 alunni residenti a Monte della Frana di Ponte Falmenta, ovvero a Gurro e a Cursolo Rasso. Incontro tra l'Unione dei Comuni del Lago Maggiore, i cinque sindaci di Canobio e della Valle, Vicio Trasporti e la dirigente scolastica Nadia Tantardini. Non parliamo di soluzione migliore, ma meno peggio, visti gli importanti disagi, afferma il presidente dell'Unione Gian Domenico Albertella. Per i quattro ragazzi, residenti a Gurro che frequentano le superiori, le famiglie hanno adottato soluzioni proprie. L'alunno delle scuole medie farà lezioni a Santa Maria Maggiore, Vicio Trasporti gli garantirà corsi ad hoc, spese che rientreranno in quelle sostenute dall'Unione per il trasporto scolastico. Veniamo agli studenti di Cursolo Rasso. I tre ragazzi delle medie e quello delle elementari continueranno a frequentare la scuola a Canobio, dove le famiglie hanno deciso di affittare temporaneamente due alloggi. I sei studenti delle superiori invece continueranno ad andare nei rispettivi istituti di Verbania, passando per la Valle Vigezzo con una corsa appositamente attivata che partirà alle 6 a Orasso e arriverà alle 6.45 a Domodossola, dove potranno poi prendere la coincidenza per Verbania. Dovranno partire mezz'ora prima rispetto all'orario consueto e rientreranno mezz'ora dopo. È evidente e giustificata la rabbia di amministratori e famiglie, ha affermato Albertella, evidenziando però come queste ultime di fronte all'emergenza abbiano risposto non con polemiche ma con soluzioni. Le ha ringraziate per la disponibilità data, ma non so fino a che punto possa andare avanti, ha precisato, denunciando ancora una volta l'abbandono da parte dello Stato centrale del Ministero. L'unico soggetto che nelle diverse emergenze c'è stato vicino è stata la Regione. Da Roma non rispondono neppure alle lettere. I comuni sono stati lasciati soli, ha concluso Albertella. I tempi di intervento sulla strada Cannobina. Dalla partenza dei lavori servirà almeno un mese e mezzo per la posa di una passarella pedonale. Per la riapertura completa occorreranno circa tre mesi e mezzo di lavori.